Cosa significa Dante per me? Dante è un esempio per me di tante cose. È un esempio di impegno politico che è sempre stato incrollabile in tutta la sua vita, è un esempio di dedizione a una grande opera, che è la sua più grande opera, la Divina Commedia, e questa dedizione si vede, è un'opera così densa di vita e di significato, senza poi contare lo studio che è stato necessario per realizzare questa opera, che tratta di temi estremamente complessi. E oltretutto anche la forma di questo poema, cioè le terzine identiche a sillabi, decine di migliaia di versi così, mi ha sempre lasciato meravigliato. Dante è il tipo di persona che, insomma, ha lasciato il segno nella lingua italiana, nella poesia, in tante cose, e secondo me è il tipo di persona che dovremmo essere.